Missione impossibile, e sì, perché quella che aspetta stasera la Roma di De Rossi è senz'altro una missione impossibile, ma nel calcio, come abbiamo visto ieri sera, può succedere, può succedere di tutto e bisogna crederci, quantomeno bisogna provarci, bisogna provarci, la Roma ha delle possibilità, io stimo un 20%, 15% di passare il turno, ma comunque le possibilità ci sono, quindi è giusto sognare, è giusto sognare, io sono abbastanza negativo perché stasera, però dai, tutto sommato, ci godiamo il momento, ci godiamo la serata, il mio capitano questa sera alle ore 21 darà la mano al capitano della squadra campione di Germania, e si giocherà una finale europea, quindi da tifoso romanista devo soltanto essere orgoglioso di ciò. Allora, passiamo alle formazioni, è giusto per analizzare un po' la partita, la Roma giocherà con un 4-3-3, Mancini indica centrali, Spinazzola sinistra, perché se Spinazzola è in forma ovviamente deve giocare lui, Selic a destra, mi è rimasta impressa un'inquadratura durante la partita d'andata di Selic, che era in tribuna, squalificato dopo il fallo di Leao, su Leao insomma, nei quarti di finale col Milan, dopo l'errore di Karlsdorp l'hanno inquadrato, penso apposta, aveva una faccia disperata probabilmente, in quel momento avrà pensato di aver fatto un errore, un errore molto grosso a farsi espellere. Comunque, difesa ok, Pellegrini, Cristante, Paredes in mediana, ovviamente il centrocampo direi obbligato, Lukaku Ilciarawi sicuri di una maglia, per la terza maglia, Baldanzi, secondo me favorito, anche se le parole di De Rossi in conferenza stampa quando dice che su Di Bala alcune cose non le avrebbe dette, non lo so, mi hanno lasciato un po' rarplesso. Terza ipotesi, Abram. De Rossi, torniamo su De Rossi, in conferenza stampa perfetto, impeccabile, come sempre, non sbaglia un intervento, non sbaglia una parola, non sbaglia un tempo, non si scompone, sembra faccia allenatore ad alti livelli da 15 anni, da 20 anni, una roba impressionante. Ma questo succede perché prima che essere un allenatore di livello, era un calciatore di livello e un uomo di livello, insomma, è uno che ci ha sempre messo un po' di cervello in più degli altri nel suo lavoro. Mi sono appuntato giusto due cose sulla conferenza, passaggi importanti sono quando dice che si fida dei suoi giocatori, come quando lo disse da capitano alla Roma di quell'impresa storica col Barcellona. In effetti è vero, i giocatori che saranno in campo questa sera sono gli stessi, per buona parte, che l'hanno portato in semifinale, che l'anno scorso sono andati a giocarsi un'altra finale di Europa League, che due anni prima hanno vinto una conference, quindi probabilmente sanno bene come si arriva in fondo a una coppa. Mi è piaciuto molto quando schippa il discorso Gasperini, e come lui anche io ne parlerò più avanti, in un prossimo video. Meraviglioso quando invece dice che non risparmierà nessuno per la partita con l'Atalanta, che le valutazioni saranno fatte solo in base a questa partita, come dagli torto. Anche nelle gestioni di Rossi si sta rivelando un allenatore top. Molto bene i cambi, molto bene i mini turnover che ha fatto, ha fatto riposare Sharawi contro la Juve, insomma, sta gestendo bene, mezza difesa era fuori contro la Juve, Selic, Mancini era fuori, Spinazzola, insomma, nonostante l'impegno di livello, nonostante la Roma abbia fatto una partita di livello comunque contro la Juve, ha fatto delle scelte comunque azzeccate. Altre cose importanti della conferenza, che mi pare di aver capito, che lui ci crede tanto, ed è giusto così. Noi ci crediamo insieme a lui. Il Bayer Leverkusen, che dire, è informissima, lo sappiamo già, l'abbiamo ripetuto mille volte, non starò qui a dirlo, quante partite di fila non perde, eccetera, eccetera. Potrebbero esserci un paio di novità tattiche, potrebbe giocare Boniface punta centrale, secondo me cambierà rispetto alla partita d'andata, per sorprendere un po' la Roma. Io mi aspetto o Schick o Boniface in avanti. polemica sul post, dove la società dà le modalità di acquisto dei biglietti per la finale. Probabilmente i tedeschi non sono scaramantici, ma fan bene anche così, sono cose che ci stanno. Che sia un errore o no, non sposta di una virgola. Lo stesso De Rossi dice appunto che non c'è bisogno di ulteriori motivazioni. No, ce ne sono già abbastanza. Per quanto invece riguarda Xabi Alonso, io penso che sia il prossimo allenatore del Real Madrid. Ancelotti farà un altro anno, mi sembra abbia rinnovato poco fa, pochi giorni fa. Ancelotti farà un altro anno, Xabi Alonso ha rinnovato, farà un altro anno. E dopodiché la sua destinazione, credo sia proprio quella, sta dimostrando di essere un allenatore meraviglioso. Cos'altro? Forza Roma, crediamoci. Questa partita vale molto anche in ottica Champions, perché il campionato si è complicato, quindi arrivare in finale e potersi giocare, anche lì una possibilità, sempre contro l'Atalanta forse, probabilmente, sarebbe qualcosa di unico. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.